Standing ovation per la prima di carte false che ha segnato il passaggio di testimone alla direzione artistica del teatro Regina Margherita al Nisseno Aldo Rapè, che ha affermato La prossima stagione sarà all'insegna della diversità. Lo spettacolo scritto dal giornalista palermitano Salvo Toscano e interpretato dall'attore Nisseno Rosario Petix ha di fatto concluso l'ultima stagione firmata da Moni Ovadia. Rapè, a conclusione dello spettacolo, dichiara di voler portare il teatro in città coinvolgendo altri spazi bellissimi di cui è ricca la città. Caltanissetta ha detto è bella, quindi possiamo osare. Non abbiamo niente di meno rispetto agli altri capoluoghi di provincia, anzi la nostra centralità può essere una risorsa. Continuiamo a credere che questa città possa migliorare attraverso la cultura. Grazie a tutti.